Il Natale più a Fano vi aspetta dal 25 novembre al 7 gennaio con un suggestivo villaggio di Natale, mercatini, musica, laboratori e sorprese per tutti i bambini in zona Pincio e via Arco d'Augusto. Luci, musica, spettacoli, la pista sul ghiaccio e la via dei presepi renderanno il Natale più ancora più magico e più sorprendente. Per tutte le informazioni visita il sito visitfano.info